Oddio! 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 Oddio, santo! Mi sento male, mi sento. Mi sento male. 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 Stai, 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 stai. Stai, 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 stai. Stai, stai, stai. Stai, 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 stai. Stai, 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 st Nella manutenzione, nelle concessioni, certo riguarda la società dell'autostrada, se io e lei evidentemente paghiamo un pedaggio per percorrere un tratto di autostradale, facciamo affida sul fatto che quel tratto di strada non ci crolli sotto. Fatotti dovrebbe preoccuparsi del suo ministero, mi sembra che fare la composizione della commissione del Mitz stia diventando piuttosto complicato, visto che i commissari ruotano più rapidamente che i giocatori durante una partita di calcio. Grazie per la visione!